Oggi prepariamo il cheesecake alle ciliegie, questi sono gli ingredienti, ricotta di mucca, panna fresca per dolci, zucchero, fecola di patate, pasta frolla tipo 4, ciliegie, ancora zucchero e succo di limone per fare la composta. Iniziamo preparando la composta. Prendiamo le ciliegie già lavate e andiamo a togliere il nocciolo. Dopo aver denocciolato tutte le ciliegie, aggiungiamo lo zucchero. E il zucchero e il limone. Le mettiamo al fuoco. Nel frattempo andiamo a preparare, a folerare una teglina con la pasta frolla. Andiamo a stendere la pasta frolla ad un'altezza di circa 3 mm. Andiamo a spolverata di farina per evitare che si attacchi. Una volta a folerata la teglia, andiamo a mettere in freezer per 5-6 minuti in modo che si indurisce la pasta frolla. La composta sta cuocendo. Deve cuocere fin tanto che inizia a rassodare il liquido. Quando iniziano a formarsi delle bolle abbastanza grandi e la composta si è addensata, vuol dire che è cotta. Una volta pronta bisogna farla raffreddare. Mentre il fognio di pasta frolla e la composta di ciliegie si raffreddano, possiamo preparare il composto per il cheesecake. Andiamo a mettere la ricotta di mucca in un recipiente. Aggiungiamo lo zucchero. E la fecola di patate. Quindi frustiamo bene il tutto. Una volta amalgamato bene tutti gli ingredienti, aggiungiamo la panna fresca. Girate molto bene con la frusta e quando il composto inizia a indurirsi è pronto. Una volta raffreddata la pasta frolla e anche la composta, andiamo a montare il cheesecake. Quindi versiamo la composta sopra alla pasta frolla. La distribuiamo su tutta la tortina. Quindi andiamo a ricoprire con il composto di ricotta. Riveliamo il composto. Ora andiamo a rifilare il bordo all'altezza del composto. Ok. Il cheesecake è pronto per andare in forno. A forno ventilato è preriscaldato a 160 gradi. Il cheesecake deve cuocere bene perché altrimenti il fondo resta crudo. Dopo 50 minuti a 160 gradi il cheesecake alla ciliega è pronto. Una volta freddo, giriamo il cheesecake e lo mettiamo sul piatto da portata. Quindi andiamo a decorare. Io per questo dolce ho pensato una decorazione semplice. Ho preparato delle strisce di carta, tutte uguali, e le vado ad incrociare sopra ai cheesecake. Quindi lo spolvero con zucchero a velo. A questo punto togliamo le strisce di carta. Andiamo a mettere una ciliegia per ogni striscia. Posizioniamo due ciliegia al centro e il cheesecake alle ciliegie è pronto. Grazie a tutti. Grazie a tutti.